E' ormai tempo di grandi manovre in Casa Piacenza. L'avvio ufficiale della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 è stato rinviato la prossima settimana, segno che la società vuole presentarsi ai tifosi con buona parte della squadra già allestita e si sta lavorando in ottica a rinnovi e acquisti. Il primo arrivato è Davide Zappella, esterno classe 98 in prestito dall'Empoli. Tra i big da trattenere il primo certamente è Mattia Corradi, mentre in attacco si cerca una prima punta e torna ad attualità il sogno Daniele Caccia. Le ambizioni ci sono tutte, come confermato dal vicepresidente Roberto Pighi. Sicuramente trattenere qualche giocatore che è in scadenza di contratto, che in questo momento non si è ancora casato, non facciamo nomi mai evidenti chi possa essere tra i miei obiettivi. Avremo bisogno di una punta centrale molto forte, quindi dobbiamo andare a prendere dalla concorrenza, quindi questa sarà una delle rivelazioni della prossima settimana. Definitivamente archiviata anche la delusione della passata stagione, ora si guarda al futuro. Chiaro che abbiamo avuto due finali a disposizione, il ramarico è enorme, non ce l'abbiamo fatta, ci sono stati anche tanti elementi di valutazione che hanno poco a che fare col calcio giocato e quindi è anche vero che oltre al disagio di aver perso due finali in giro di cinque settimane è anche un po' di arrabbiatura che è nota fuori anche in particolare dal Presidente della famosa dichiarazione stampa di Trapani. Comunque ripartiamo con un piano molto più importante dell'anno scorso perché stiamo parlando di un piano che ci vede impegnati per due o tre anni a investire in risorse con giovani che possono essere messi sotto contratto fino a lunga scadenza e quindi poter contare sulle loro prestazioni anche nel caso si rivelasse ad hoc per il nostro gioco che probabilmente quest'anno il Ministro ha detto che cambierà.